Che cosa vuol dire essere precari oggi nel 2023 in Sicilia? Benvenuti a Talk Sicilia, l'argomento di oggi è il lavoro precario. Per parlare di questo tema scottante abbiamo qui con noi come ospite Paolo Di Ghetano. Grazie per l'invito. Benvenuto Paolo. Grazie. Paolo è sindacalista da 45 anni, si occupa delle vertenze più spinose che si affrontano in Sicilia, di tutti i colori, di tutti i tipi. Con lui parleremo non soltanto del dramma del precariato nella pubblica amministrazione, ma anche del mercato del lavoro e delle sue tante sfaccettature, termine difficilissimo, e delle sue complicazioni che spesso rendono la vita ai lavoratori impossibili. Paolo, la prima domanda, spannometricamente a naso, quanti sono i lavori precari della pubblica amministrazione in Sicilia e come sono distribuiti sul territorio e che cosa fanno? Possiamo dire che siamo vicini ai 40.000 precari, distribuiti in vari settori, quasi tutti i settori. Li abbiamo nella scuola, li abbiamo negli enti locali, nella sanità, quindi tre settori nevralgici della nostra società, nonostante il loro apporto, nonostante la loro indisponibilità per quanto riguarda l'attività all'interno di queste realtà lavorative, oggi ancora soffrono la loro stabilizzazione. Ma stiamo parlando dei lavoratori che sono anche anziani, spesso ci sono bacini di precariato dove si passa direttamente dal precariato alla pensione con tagli dei contributi previdenziali e la gente poi è disperata perché gli resta soltanto la pensione sociale. Certo, perché alcuni giorni fa un lavoratore, un ex lavoratore nato in pensione, un lavoratore socialmente utile, mi faceva vedere il cedolino della sua pensione che ammontava 300 euro, e quindi la povertà, questo ha deciso, o meglio altri hanno deciso di mantenerlo povero e ancora oggi come pensionato si ritroverà povero. Tu hai seguito ormai, diciamo, da quasi 45 anni tutte queste battaglie sindacali, ma c'è una battaglia sindacale che è esemplificativa di come la politica abbia utilizzato questo bacino di lavoratori, questo gruppo di lavoratori per un tornaconto elettorale, perché diciamocelo francamente, mantenere i lavoratori precari serve per poi poterli stimolare durante le elezioni. L'intervento all'origine, la RDB prima, adesso dal 2010 USB, è servita per svincolare tutti questi lavoratori dal clientelismo nel quale erano sottoposti. Infatti in quegli anni la politica decideva vita, morte e miracole di ognuno di loro. Noi siamo riusciti a svincolarli, a renderli liberi, liberi di protestare. Molti di questi sono riusciti a stabilizzarsi, siamo riusciti nella stabilizzazione. Penso al comune di Palermo, penso ai tanti articolisti sparsi per la Sicilia, però c'è ancora una grossa fetta di precarica, non riesce a trovare finalmente la posizione di stabilizzato. Ma diciamoci la verità, questi precari rimangono tali, rimangono precari, perché poi la politica viene a bussare al momento delle elezioni. È come se si volesse dire a questi lavoratori, stai dalla mia parte, vota per me, perché ti farà avere il rinnovo del contratto piuttosto che la stabilizzazione. Apparentemente sembrerebbe un atteggiamento della politica catatonico per quanto riguarda il futuro di questi lavoratori, ma nei fatti così, non siamo di fronte a una politica insensibile, ma siamo di fronte a una politica tornacontista. Semmai cinica in questo punto di vista. Certo, senza dubbio. Questi lavoratori devono soggiacere al loro potere, perché vengono utilizzati come bacino elettorale. Questo è varia per tutti i partiti purtroppo, perché in tutti questi anni non abbiamo avuto dimostrazione, anche di una parte della politica, della cosiddetta opposizione, di realizzare finalmente il sogno di tanti lavoratori precari. Questo francamente addolora, perché sappiamo che la politica è formata da uomini e speriamo, abbiamo sempre sperato che la parte umana della politica venisse sempre fuori, ma questo purtroppo non è mai accaduto. E' proprio di questi giorni la notizia di ulteriori proteste dei lavoratori ASU e dei lavoratori ipercari Covid, sono due settori, quello dei beni culturali e quello della sanità, che sono, come tu hai detto benissimo poco fa, critici, perché sono i pilastri, alcuni dei pilastri su cui si poggia la nostra economia. Ma cosa svolgono? Che funzione hanno? La domanda è prima i lavoratori ASU e i beni culturali, e poi apriamo una finestra suipercari Covid per capire cosa sta succedendo. Per quanto riguarda i lavoratori ASU dei beni culturali, sono 280 lavoratori che svolgono le stesse mansioni di coloro che sono stati assunti a tempo indeterminato per questa regione. Facciamo un esempio concreto, quindi c'è un lavoratore ASU che lavora in una biblioteca della regione che guadagna quanti euro per esempio al mese, dipende dagli orari, mediamente. Sarà un mille, il lavoratore ASU sarà intorno alle 800 euro, e c'è il suo collega che invece ha assunti alla regione quanto guadagna? Almeno il doppio. Almeno il doppio, quindi non si avverte questo senso di profonda ingiustizia, due lavoratori che fanno la stessa cosa, uno guadagna il doppio dell'altro, è illegale, a parità di mansioni bisognerebbe guadagnare lo stesso stipendio, ma basta non ci raccontiamo la favoletta che si tratta di persone che hanno vinto il concorso, perché sappiamo bene che non è che tutti hanno fatto il concorso per entrare alla regione, questo è valido sia per gli enti locali, è valido per la sanità, ancora più per la sanità, la sanità è un capitolo a parte, ma ritornando alla questione che riguarda gli ASU dei beni culturali, quello è gravissimo, questi sono lavoratori che conoscono le lingue, che svolgono le stesse attività dei lavoratori dipendenti, eppure non soltanto vengono sfruttati oggi, ma vengono precarizzati anche per il futuro, come dicevamo poco fa, questi hanno tutti i contributi figurativi, e i figurativi valgono soltanto per raggiungere l'anzianità, per la pensione, ai fini del rendimento, cioè del quantum, questi non hanno nessun valore, per farci capire da chi ci segue, i contributi figurativi servono a costruirti il percorso per andare in pensione e avere l'anzianità, ma non contribuiscono al monte economico della tua pensione, assolutamente no, valgono zero, quindi in poche voi questi qua stanno costruendo un futuro da poveri, lo dicevamo poco fa e vorrei sottolinearlo, noi avremo migliaia di persone che vivranno con la pensione sociale, con l'assegno sociale e questo è gravissimo, occorrerebbe un attimino guardare un po' l'orizzonte, guardare un po' più in là e non essere così cinici da lasciare questi lavoratori in questo stato, già precario, povero, perché sono poveri questi lavoratori. Per l'altro se non ho capito male, questa fascia di persone rappresenta, come dire, non è la fascia bassa della povertà, stiamo parlando di laureati, stiamo parlando di gente che ha cultura, che ha delle skills, come si dice oggi, che potrebbero essere messe a disposizione. Alcuni, diversi, non alcuni, diversi di questi negli enti locali occupano figure apicali, negli enti locali ci sono ASU che predispongono le delibere, quindi stiamo parlando di gente altamente qualificata, altamente professionalizzata, che viene sottopagata, viene sfruttata, è un lavoro nero legalizzato, guardate bene, è un lavoro nero legalizzato, è la cosa incredibile che viene attuato questo lavoro nero legalizzato dalla pubblica amministrazione, che invece è quella che dovrebbe, è preposta al controllo dello sfruttamento e della precarietà nel privato. Poi sul privato faremo una piccola finestra, perché prima di entrare in sala di registrazione mi hai raccontato che c'è un altro aspetto drammatico del precariato in Sicilia, ed è quello che riguarda le attività private. Io a questo punto ti chiederei di fare una breve riflessione sul mondo del precariato Covid. Li abbiamo chiamati per almeno due anni gli eroi, no? Gli abbiamo fatto gli applausi, sono stati premiati al Quirinale, erano gli eroi delle nostre giornate, quelli che quando eravamo in lockdown andavano a lavorare, rischiavano anche la vita perché erano i più esposti al contagio. E adesso qual è il trattamento che abbiamo riservato? Ma il trattamento, ho capito che nella nostra società i cosiddetti eroi vengono presto dimenticati. Questo è il dramma della società italiana, ed è gravissimo, la nostra memoria è molto limitata, dimentichiamo facilmente. Questi lavoratori precari, assunti nel periodo Covid, sono stati buttati nei reparti, perché di questo si tratta, buttati nel reparti Covid senza altuna formazione. E questi lavoratori sono dedicati anima e corpo ai degenti, ai malati. Ricordate che in quel periodo lì non potevano vedere i loro familiari, per cui erano soli e gli unici soggetti che avevano accanto, gli unici lavoratori che potevano anche incoraggiarli per quello che potevano e assisterli, erano gli operatori sanitari. In prima battuta gli OS, cioè quelli che stavano H24 con i degenti. Si sostituivano ai loro familiari, mettevano a disposizione ad esempio i loro cellulari per videochiamate con i parenti dei degenti. Sì, ci sono casi in cui l'ultimo saluto è stato dato proprio... Esatto, esatto. Quindi nei fatti questi lavoratori sono stati dei veri eroi, hanno rischiato la propria... E oggi, la regione però ha avviato un percorso di stabilizzazione, o è una cosa così aleatoria che in realtà non ha uno spiraglio concreto per una sicurezza? È un percorso tortuoso, cioè non c'è stata una posizione radicale da parte del governo regionale, cioè hanno avuto e hanno difficoltà... Perdona, prima di spiegare cosa stanno facendo alla regione, c'è continuità tra il governo musulmanese e il governo Schifani nell'approccio verso questo tipo di lavoratori o è cambiato qualcosa? Allora, formalmente notiamo che il governo Schifani è sensibile al problema, però nei fatti le soluzioni non vengono. Mi viene in mente l'esempio del menticante che si trova in piazza. Ci sono due tipi di generosi. Quello che dice, passa davanti al menticante e lo guarda in faccia e dice poverino, mi fa pena, ma non dà nulla. Mentre c'è l'altro che passa davanti al menticante, non soltanto dice poverino, ma mette le mani in tasca e dà le democci. Vabbè, c'è anche un'altra tipologia. Uno che passa, dice poverino, gli dà una mano e se lo porta a mangiare, per esempio. Sarebbe l'optimo, no? Quindi ci troviamo di fronte a un governo, è il primo caso, che dice poverini, hanno ragione, però non fa nulla. Perché non fa nulla? Non fa nulla perché... Però un processo di stabilizzazione è stato avviato, in che senso non si fa nulla? Allora, il processo di stabilizzazione che è stato avviato e che sta iniziando ha di fronte moltissime difficoltà, nel senso che il governo nazionale ha legiferato in merito, però la regione esiste in particolare. E cosa ha stabilito il governo nazionale? Che tutti quanti devono essere stabilizzati, parlo dei precari Covid, attraverso delle selezioni. Selezioni che comunque possono essere anche dettate esclusivamente dalla presentazione di titoli. Però lì c'è la differenza tra coloro che hanno maturato i 30 mesi, 36 mesi con rapporto a tempo determinato, coloro che hanno maturato i 18 mesi a tempo determinato e coloro che invece sono stati assunti per emergenza, non per loro volontà, ma per l'emergenza richieste una coscrizione di carattere militare. Una coscrizione, hanno accettato quel tipo di contratto, il contratto flessibile con COCOCO e che invece si vedono relegati all'ultimo posto e che probabilmente, così come stanno le cose, non verranno mai stabilizzate. Quanti sono i precari Covid in Italia e in Sicilia? In Italia ammontano a circa 80 mila. In Sicilia superiamo abbondantemente le 3.000-4.000 unità. Vedate bene che di precari con contratti flessibili non soltanto troviamo gli operatori sociosanitari, ma troviamo anche gli infermieri e i medici. Quindi hanno utilizzato questa forma medievale, perché di questo si tratta, di contratto e i lavoratori hanno dovuto accettare. Beh, probabilmente però lì eravamo di fronte a un'emergenza, io capisco il tuo punto di vista sindacalista, però di fronte a un'emergenza, piuttosto che andarsi a scontare con la burocrazia, ok, io ti faccio entrare con questo contratto, vieni a salvare le vite. Io penso che si possa dire che il criterio sia stato questo. Ma questo è comprensibile, lo comprendo, lo comprendiamo. Però oggi bisogna dare una risposta. E appunto, oggi invece... Però sul piano concreto, il governo regionale, che cosa ha fatto? Qual è la linea di stabilizzazione? Non è quella che abbiamo indicato noi ripetutamente. Noi abbiamo una sanità pubblica che è carente in organico. Tutti questi lavoratori potrebbero essere assunti e non si raggiungerebbe mai l'ottimo in termini di organigramma. Rispetto all'organigramma, quanto manca all'organigramma siciliano? Ma tantissime, non sapevi. Quindi anche prendendoli tutti, non diamo in eccedenza, ma siamo sempre sottodimensionati. Allora, faccio un esempio. Ci sono... è stato inaugurato dal presidente Mattarella, 15-20 giorni fa, il reparto di cardiologia. Dove? Intestato all'ospedale Cervello, intestato al professore Fitrolo, medico personale del presidente. Ebbene, da allora il reparto è chiuso, manca il personale, non hanno il personale. Quindi 20 giorni fa hanno pubblicizzato questa inaugurazione, però ad oggi il reparto è chiuso. Quindi una scatola vuota. Questo è un esempio che abbiamo sotto mano. Ma questo non è uno spreco anche da segnalare, perché non so, la Corte dei Conti, cioè se tu hai investito centinaia di milioni per un reparto e poi non hai il personale, non è paradossale, è contraddittorio. Certo che è paradossale. Il problema è che poi assistiamo ai viaggi della speranza, ulteriore spesa a carico delle casse regionali e assistiamo a un altro fenomeno incredibile, che è quello del privato. Cioè il 70% delle analisi, degli interventi che sono propri della sanità pubblica vengono destinati al privato. E questo è inaccettabile nella nostra società, in una società civile. È inaccettabile che un... Perdonami Paolo, ma non si sta creando il clima della tempesta perfetta, perché da un lato c'è il mondo del lavoro che paga sempre meno i lavoratori, ci sono tanti precari anche tra i professionisti, dall'altro si leva la mano della sanità pubblica, cioè probabilmente la gente non avrà più la forza economica di potersi curare se deve andare a pagare dal privato. O è sempre uno switch verso le convenzioni con la Regione? Allora, che ci sia il tornaconto da parte del privato è fuori dubbio, ma io vorrei anche rappresentare un altro fenomeno, specialmente presente a Palermo, ma non soltanto a Palermo. A Palermo esistono gli ambulatori popolari, gli ambulatori che voleranno delle zone un po' difficili, come lo Zen, Borgo Vecchio. Ecco, in questi ambulatori operano medici e personale sanitario volontari e loro all'inizio pensavano di accogliere gli ultimi degli ultimi, i poi i disgraziati che non avevano la possibilità di curarsi. Oggi non è più così, oggi anche la vecchia classe media si rivolge a loro perché non ha le risorse per poter pagare analisi, per potersi recare. Si anche perché se ti metti in lista attesa per un esame pubblico passano 6-7 mesi almeno le liste attese. Allora, torniamo all'argomento, questa diciamo è sanità pura. Torniamo alla procedura della stabilizzazione dei precari Covid. La proposta qual è quella? La proposta è di legiferare nel merito e assumere almeno 3-4 mila precari Covid, anche il sovrannumero. Questa è la vostra proposta. E poi non la definiamo sovrannumero, ma non è sovrannumero. La proposta operativa, questa ho capito, questa è la proposta del sindacato, il tuo sindacato che tu rappresenti, ma la proposta concreta del governo qual è? Cioè è stato avviato un percorso di stabilizzazione, che cosa prevede? Allora, la proposta del governo purtroppo è scaricata sui singoli commissari delle varie aspe. Cerchiamo di far capire a chi ci segue che significa. Tu mi stai dicendo che il governo ha detto ai singoli dirigenti di chi amministra gli ospedali o le grandi aree della sanità, no? La Sicilia è divisa in ASP e quindi tocca a ogni singolo amministratore decidere se assumere e come assumere. Anche le condizioni può decidere di assumere o no? Sì, sì, sì. E hanno la capacità economica di farlo? No, quello è il problema. Il governo regionale dà la dotazione finanziaria per farlo? Assolutamente no, non hanno le capacità. Ma è una beffa, è una burla, una beffa o è un escamotaggio per prendere tempo? È l'atteggiamento che dicevo all'inizio, cioè il governo manifesta una sorta di sensibilità, però poi praticamente non mette le condizioni i singoli commissari. Perché non ci vengono i denari. Ma la cosa incredibile, ad esempio, e mi riferisco all'ospedale Cervello Villa Sofia di Palermo, è che a fronte di mancanze di denaro da parte dell'ospedale… Mi sembra di capire da parte del commissario di Villa Sofia c'è stata la disponibilità di procedimento al senso… Certo, certo, non è un fatto personale, però non comprendiamo come mai non riesce ad attivare le stabilizzazioni e il 6 luglio viene fuori con la delibera da parte del commissario Walter Messina per assumere a tempo determinato ulteriori 30 infermieri. Cioè quindi mettere altro precariato su quello già esistente. Gli ospedali riuniti hanno… Non avrebbe potuto attingere a quelli Covid? Certo, avrebbe potuto tranquillamente cominciare a stabilizzare. Ci sono 170 infermieri precari e abbiamo altri 150 osse precari. Quindi diciamo anche nella sanità pubblica c'è tanto precariato diffuso. Mamma mia! E questi fanno parte dei famosi 40.000 laboratori di cui ci dicevi a Lina. Esatto, sì, sì, questo sicuramente. La questione è che anche il tipo di contratto che è stato utilizzato in un fisco e i contratti flessibili nei fatti non è un contratto flessibile perché tutti questi lavoratori hanno le turnazioni uguali a quelli identici a quelli dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato. Ora, per concludere questa prima parte dell'intervista, perché poi io ti inviterò nei prossimi giorni per fare un altro focus sul mondo del privato, del lavoro privato in Sicilia. Per concludere, che cosa bisogna fare per levare di mezzo questo mondo del precariato e farlo come dire, bisogna continuare a attendere la politica, ci sono problemi di burocrazia che ostacola questi percorsi, sicuramente ci sono delle scelte politiche che sono inadeguate. E dall'altro c'è anche una burocratica che è presente. Mi riferisco ad esempio, faccio l'esempio dei 2500 ex PIP che operano a Palermo nelle varie realtà. Quello è incredibile, mi ricordo che noi ci siamo incontrati la prima volta nel 96-97 quando iniziava la stagione dei PIP che ancora inizia, dopo tanti anni ancora questi lavoratori non hanno nulla. Per chi ci segue, perché magari ogni tanto abbiamo utilizzato i termini tecnici, ci sono vertenze delle trattative per il lavoro della gente che lavora con la pubblica amministrazione a scartamento ridotto, vertenze che vanno avanti da più di un quarto di secolo. Eh sì, e tra l'altro la cosa incredibile è che per quanto riguarda gli ex PIP finalmente sono stati superati tutti due ostacoli da parte della politica. Oggi invece ci troviamo alla burocrazia che non comprendendo, perché non comprendo o fa finta di non comprendere, non riesce una volta per tutte a stabilizzare questi lavoratori. Ormai cosa fatta, però nei fatti questi quasi ostacoli si mettono di traverso. Non si capisce se è a causa dei loro limiti o perché la politica sotto banco ha detto loro di ritardare la stabilizzazione. Allora, per concludere Paolo, un messaggio a tutti i lavoratori precari. Allora, io sarebbe convinto che ribellasse il giusto, specialmente nella situazione in cui vivono il mondo del precariato. Quindi chiedo a tutti quanti i lavoratori, anche alle altre organizzazioni sindacali di decidere, una volta e per tutte, di scendere in piazza e far sentire la nostra voce. Non è assolutamente possibile lasciare in mano alla politica il futuro di questi lavoratori e delle loro famiglie. Ribellarsi è giusto, lo ripeto. Ribellarsi è giusto, accogliamo l'invito di Paolo di Catano, però mi raccomando, ribellarsi civilmente e senza violenza, perché chiaramente bisogna sempre rispettare il pensiero altrui. Grazie a Paolo di Catano, ci rivediamo presto e parleremo del lavoro privato in Sicilia. Grazie, arrivederci alla prossima puntata di Talk Sicilia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.